Borussia Dortmund Borussia Dortmund, ufficiale l'acquisto di Jarmolenko . Un altro talento mai del tutto espresso a proda in un top five campionato europeo, per la precisione in Bundesliga. Il Borussia Dortmund ha infatti ufficializzato, nel primo pomeriggio, l'acquisto a titolo definitivo di Andrei Jarmolenko. . L'ala è costata al club della Rurum totale di 25 milioni di euro e l'operazione si è chiusa con l'arrivo dell'Ucraino in giallo-nero a titolo definitivo. . Il giocatore è numericamente per caratteristiche l'erede di Ousmane Dembélé, ceduto al Barcellona per una cifra, bonus compresi, superiore ai 140 milioni di euro, il cui transfer per giocare in Blaugrana è arrivato quasi in contemporanea con l'ufficialità dell'acquisto da parte dei tedeschi. . 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